Anche il Molise si mobilita per aiutare i popoli della Turchia e della Siria colpiti dal terremoto. La Caritas di Trivento ha stanziato 5.000 euro e ha avviato una raccolta fondi. A far commuovere Don Alberto Conti, direttore della Caritas Trignina, una telefonata con padre Ibrahim, che fino a qualche giorno fa era parroco della martoriata città di Aleppo. Subito dopo aver appreso la notizia, Don Alberto ha voluto chiamarlo, in un paese già lacerato dalla guerra e dove oltre l'80% delle persone vive in povertà, c'è bisogno di tanta preghiera. Le parole che padre Ibrahim, con la voce rotta dal pianto, gli ha ripetuto più volte al telefono. Ho parlato con padre Ibrahim e padre Ibrahim, con le lacrime agli occhi, mi ha raccontato come ad Aleppo il terremoto ha distrutto palazzi, case, portando ancora una volta morte e lacrime, sofferenze e lutti. Davanti a tutto questo scenario, mi ha ripetuto più volte, c'è tanto, tanto bisogno di preghiera. Ho assicurato a nome anche del nostro Vescovo Monsignor Claudio Palumbo e della Chiesa di Trivento la nostra preghiera e la nostra partecipazione al loro dolore. E nello stesso tempo, gli ho detto che la Caritas di Trivento ha stanziato una prima somma di 5.000 euro per un immediato sostegno di aiuto alle vittime del terremoto. È una piccola goccia che va ad aggiungersi alle 500.000 euro, stanziate dalla Conferenza Episcopale Italiana e prelevati dai fondi Lotto per Mille, che i cittadini indirizzano alla Chiesa Cattolica. Un appello a donare, quello di Don Alberto, ma anche alla preghiera, pregare per le vittime, per i feriti, per i numerosi sfollati e per un popolo intero devastato dal terremoto.